Ciao amici, come sapete ho due canali, il primo riguarda la fitoterapia e la floriterapia, il secondo riguarda i miei hobby. Ho aperto questo canale per portare le mie conoscenze in erboristeria e prevenzione fitoterapica e floriterapia di Bach. Condividere questo canale per me è importante perché qui esprimo me stessa e spero che anche voi esprimete voi stessi. Sono accette i commenti di domande, critiche, accetto tutto, è un modo per conoscersi, per confrontarsi. A presto!